salve gente e benvenuti sul canale youtube max california 86 per il video di oggi ho deciso di parlarvi di un film arrivato su pre in video il 27 febbraio e sto parlando di american fiction candidato a ben 5 premi oscar questo è un film che ho deciso di vedere dopo aver letto un po di pareri positivi in rete sui social e sono stato incuriosito dal trailer c'è da fare una tirata d'orecchie alla distribuzione italiana perché non ha creduto molto a questo film per fortuna siamo riusciti a vederlo su prime video in tempo utile per la cerimonia degli oscar settimana prossima stavo pensando di fare una diretta sul mio canale youtube max california 86 per il format al max qualche chiacchiera post oscar commentando i premi ho contattato qualche ospite sono aspettando di sapere se sono disponibili o no poi nei prossimi giorni vi farò sapere con un posto una storia sui miei social se se ci sarà la diretta o dovrò rimandarla stavo pensando di pubblicare un video a tema oscar su tik tok non so se riuscirò a farlo entro domenica comunque vi parlo di american fiction dopo la sigla monc è uno scrittore di scarso successo che per mantenersi fa il professore universitario un giorno mentre si trova a boston dalla sua famiglia scherzo scrive una storia di gangster disperazione e poliziotti che maltrattano i neri un libro pieno di stereotipi nel quale decide di utilizzare uno pseudonimo invece del suo vero nome è un titolo che fa scandalo fuck pensa che non lo voglia pubblicare nessuno invece alla fine le case editrici fanno a gara per averlo e diventa un best seller con i soldi ricavati dalle vendite riesce a pagare la struttura nella quale si trova la madre affetta da alzheimer pirato al romanzo cancellazione di percival everett cord jefferson con questa commedia politicamente scorretta che ha anche sceneggiato riesce a centrare in pieno l'intento e cioè quello di realizzare una satira sulla stereotipizzazione della cultura afroamericana in campo letterario e cinematografico di american fiction ho apprezzato la scelta del cast la caratterizzazione dei personaggi e la regia che sembrava quella di un regista navigato e non un esordiente quello che non ho apprezzato del film è che nella seconda parte si è dato un po troppo spazio ai drammi familiari come quello della madre e degli altri fratelli piuttosto che alla satira consiglio la visione di questo film se siete fan di jeffrey wright e del genere dramedy il mio voto per american fiction è un sei e mezzo diciamo che non mi ha convinto al cento per cento secondo me l'unico oscar che potrebbe vincere american fiction è quello per la miglior sceneggiatura non originale se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale youtube max california 86 nelle prossime settimane nei commenti fatemi sapere se il film l'avete visto no se vi è piaciuto no quale o quali oscar potrebbe vincere american fiction e quali video volete vedere sul canale nelle prossime settimane in descrizione trovate i link ai miei profili facebook instagram telegram nel quale trovate il mio gruppo max california 86 al quale potete tranquillamente iscrivervi se state cercando notizie sul cinema e le serie tv e tik tok nel quale pubblico video diversi ma sempre a tema cinema e serie tv un saluto e ad un prossimo video qui sul canale youtube max california 86 iscrivetevi al canale Musica